parliamo di questo capitolo 1115. Qual è l'informazione importante? È che le isole su cui in questo momento si vive nel mondo di One Piece non sono altro che frammenti dei vecchi continenti. Quindi tanto tempo fa, prima dei cento anni di buio, il mondo di One Piece era un mondo probabilmente molto più simile al nostro, con le acque che si occupavano buona parte della sfera terrestre, però non così come è ora. Poi durante il secolo buio c'è stata questa grande guerra dovuta a uno scontro di ideologie e questa è una cosa importante perché Vegapunk pare dirci che non c'è stato un chissà quale movente, non c'è stato un qualcosa che ha fatto scattare la guerra, ma sono due idee che si sono contrapposte e quindi sarà interessante poi andare a conoscere queste due idee e andare a immedesimarsi un pochino con una o con l'altra, a vedere cosa condividiamo. Non è detto a questo punto, sebbene io credo che Oda vada un po' a farci intendere chi sono i cattivi e chi sono i buoni, non è detto che magari leggendo le motivazioni del governo mondiale in futuro ci sia una qualche parte di noi che è d'accordo con tale motivazione. Quindi bisogna capire un po' quali fossero queste due ideologie. Questa guerra ha portato all'utilizzo delle armi ancestrali e probabilmente l'utilizzo spropositato di queste armi ancestrali ha portato alla distruzione, all'affondamento dei continenti e all'inalzamento delle acque di 200 metri. Devo essere sincero, 200 metri mi sembrano un pochino pochi perché l'isola degli uomini pesce, per esempio, si trova a 10.000 metri sotto il mare e tra 10.000 metri e 200 metri c'è una differenza abissale. Io non credo che nessuno sia mai andato sotto... cioè se in One Piece si ha la capacità di scendere 10.000 metri sotto il mare, 200 metri non dovrebbero essere nulla. Quindi nessuno si è mai accorto di questo mondo sommerso che Oda ci mostra anche in questo capitolo. È probabile forse che i continenti siano caduti e poi c'è stato anche l'inalzamento. Cioè quindi i resti non si trovano a 200 metri sotto il mare ma molto di più. Cioè c'era un mare, i continenti sono andati sotto magari a 10, 11, 12 chilometri, non lo so, e poi il mare si è alzato di altri 200 metri, andando a coprire anche alcune delle cose che restavano. Potrebbero essere successe entrambe le cose. Ora, può darsi che il fatto che sia stata usata Mother Flame ha portato poi il mare ad alzarsi di altri 5 metri. Perché Vegapunk pensa che il mondo sarà sommerso un giorno. Perché queste armi probabilmente saranno risvegliate. Lui alla fine dice la guerra non è ancora terminata. Perché forse saranno riutilizzate. Chi vuole riutilizzarle? Per quale obiettivo? Noi abbiamo sempre saputo che il governo mondiale ha cercato di mantenere un pochino il mondo in equilibrio. Però in realtà forse ha intenzione di compiere altri atti. Forse gli obiettivi del governo mondiale non sono terminati con i cento anni di buio, con la morte dell'ex Joy Boy. Hanno uno scopo che stanno portando avanti da centinaia di anni e magari anche loro attendevano l'arrivo delle delle armi ancestrali perché Poseidon per esempio è arrivata è arrivata adesso. Per portare a termine ripeto un qualche un qualche obiettivo. Vedremo adesso che cosa altro ci dirà ci dirà Vegapunk. Il discorso si fa molto interessante e iniziamo a capire molto di più della della geografia di One Piece. In tutto ciò l'elemento che ancora non riesco a collocare è la red line. Cioè questa montagna è sempre esistita, questo unico continente, come si è formato? Che poi va a dividere il mondo in due parti. Cioè e per ora non è stato ancora nominato da Vegapunk. I continenti si sono abbassati e la red line è stata costruita in qualche modo proprio sapendo che un giorno il mare sarebbe ancora una volta salito di livello. la red line ci porterà anche perché poi Mary Joyce si trova sulla sulla red line quindi perché l'hanno messa proprio lì perché proprio lì. Bisogna capire questa cosina qua come si va a incastrare la red line in tutto il discorso di di Vegapunk e nella geografia di One Piece. Poi secondo me quando parla di armi ancestrali parla di tutte e tre le armi ancestrali. Il Mother Flame io credo a questo punto che sia un tentativo di replica di un'arma ancestrale. perché? Perché il Mother Flame, cioè quest'arma che viene ricaricata con questa fiamma che è il Mother Flame prende la sua energia appunto da un'imitazione di quella che era l'energia del passato. Cioè Vegapunk ha provato a replicare quell'energia infinita. Non ci è riuscito, cioè è riuscito a replicarla ma non è riuscito a renderla infinita. Cioè può probabilmente generarla solo fino a un certo punto. E gli effetti del Mother Flame sono stati gli stessi effetti che in passato avevano le armi ancestrali. Infatti abbiamo visto che Lulusia è caduta giù in fondo probabilmente, è stata distrutta e si è creato un buco. C'è da dire che non vediamo altri, 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 a parte News Lobby non è che ci sia non chissà quali altri enormi buchi, vortici nel mondo di One Piece. Quindi bisogna capire anche questo. E vabbè, comunque capitolo molto interessante. Cioè ad ogni settimana scopriamo sempre qualcosina in più. Stiamo procedendo lentamente però alla fine le informazioni ci stanno arrivando. Capisco che magari per molti può sembrare nulla, ma in realtà non è nulla. È tanto. Cioè molte cose si sospettavano. Cioè sospettavamo di Joy Boy, il primo pirata. Sospettavamo che il mondo di One Piece fosse sprofondato. Sospettavamo che il fatto che tutto il mondo di One Piece fosse ricoperto dall'acqua, dal mare, potesse essere dovuto a un qualcosa accaduto in passato. Sospettavamo molte cose, ma una cosa è teorizzare, sospettare. E una cosa è arrivare al momento in cui il personaggio in questione, uno dei personaggi del manga, ti vanno a confermare queste notizie. È fondamentale che accada. Cioè Oda non le può dare per scontate. Anche perché il fatto che qualcuno riesca magari a prevedere o a teorizzare determinate cose non è detto che tutti ci riescano. O non è detto che tutti abbiano la stessa idea. Quindi Oda le cose deve palesarle. Deve dire, ok ragazzi, era così. Ha indovinato, bravo, ok, ma io devo dirlo. Quindi lo deve spiegare. E lo sta facendo attraverso Vegapunk. Ora bisogna poi capire com'era questo mondo di One Piece in passato. E io credo che ci stiamo avvicinando sempre di più alle risposte. E a Elbaf sapremo tanto di più. Anche perché a Elbaf si crede nel Dio del Sole. Il Dio del Sole viene venerato. Quindi scopriremo qualcosina in più sul Nika. I giganti andremo a capire come si incastrano in tutta questa storia. Perché ricordiamoci che i giganti sono molto più vicini al secolo buio rispetto agli altri esseri umani. Perché vivono di più. E vivendo di più magari i nonni, i bisnonni di qualcuno che vive adesso hanno vissuto quell'epoca. Sono molto curioso. E poi c'è Im Sama. Im Sama nel finale, tavola finale. Lo rivediamo. I suoi soliti occhi. Nella sua stanza delle farfalle mentre gioca. E' incredibile. Fa anche quasi strano vedere l'essere che dovrebbe essere il più cattivo del mondo di One Piece. Giocare in una stanza con i fiori, con le farfalle, con la natura. E chissà perché ha deciso di... Qual è l'ideologia di Im Sama? Perché ha deciso di andare contro Joy Boy? Cos'è successo in passato? Va bene. E poi ovviamente parleremo magari nelle prossime settimane con le varie live. Con, non so, altri video. In compagnia di Simone. In compagnia di Pietro. E magari qualche altro ospite. Parliamo più approfonditamente di questo capitolo. Che ancora una volta apre a tantissimi spunti di riflessione. Grazie.